Dopo la recente pubblicazione delle percentuali di raccolta differenziata che a Piedimonte e Etneo si attestano su un discreto 30%, il sindaco Ignazio Puglisi promette un nuovo giro di vite per dare impulso a quei dati ancora lontani dagli obiettivi. Piedimonte si attesta a una percentuale di poco superiore al 30% che, ripeto, ne fa un esempio virtuoso se messo in relazione ai comuni vicini, però assolutamente lontano da quelle che sono le percentuali minime fissate dalla legge. Noi con l'ufficio Ecologia stiamo facendo un lavoro di serrato controllo, con l'assessore all'ecologia e il vice sindaco Enrichetta Pollicino un'intensa attività di sensibilizzazione, abbiamo più volte incontrato i cittadini, con i ragazzi del servizio civile stiamo supportando questo tipo di attività di informazione. Da qui a breve passeremo alla fase della repressione, dei comportamenti non rispettosi della legge e di un'ordinanza che ho emesso nel maggio scorso. Fare raccolto e differenziato abbiamo detto è un dovere civico e le percentuali che raggiungeremo nei prossimi mesi faranno onore al nostro Paese. Già in queste settimane abbiamo registrato un sensibile aumento, soprattutto per quanto riguarda l'umido che è la frazione più pesante e stiamo continuando con questa azione che presto darà risultati significativi. Ci sono differenze tra il centro cittadino e le frazioni? Sì, nelle frazioni diciamo che la percentuale è un po' più bassa, c'è una popolazione molto ridotta quindi non riesce ad incidere sulla percentuale complessiva, però anche dalla buona notizia è che abbiamo ricevuto richiesta di organizzare degli incontri anche nelle frazioni di prese di Vena dove la popolazione ha un'età media abbastanza alta e quindi anche questo è un segno di collaborazione e voglia di seguire l'amministrazione in questa azione. Ripeto, ci sono dei segnali di grande attenzione da parte dei cittadini che ci fanno ben sperare. Puntare di più sul compostaggio è un'altra delle soluzioni. Quest'anno proporremo al Consiglio Comunale una modifica del regolamento, noi abbiamo già previsto una percentuale del 10% per chi utilizza la compostiera domestica, intendiamo aumentarlo nei limiti di sostenibilità consentita dal piano finanziario e siamo convinti che anche questa è una misura che può essere utile. Abbiamo stipulato una convenzione con l'Associazione Rinascenza che orbita attorno all'Associazione Rifiuti Zero e abbiamo fatto già un primo corso sul compostaggio domestico, rilancieremo nelle prossime settimane con un nuovo ulteriore incontro per far capire il meccanismo di uno strumento che può abbassare sensibilmente la quantità complessiva dei rifiuti prodotti che è uno dei nostri principali obiettivi.